Ciao a tutti, già mi conoscete ma me li presento, io mi chiamo Merinè Specialista del Colore volevo dirvi a tutte le clienti, io l'ho già detto settimana scorsa ma ve lo dico ancora che mi fa veramente piacere, dato la situazione che pensavamo che si aprisse il 27 di marzo purtroppo non si apre il 27 di marzo, dobbiamo aspettare quando tutti ci dicono quando possiamo aprire allora volevo dirvi una cosa bella, siccome i capelli crescono cominciano ad andare via tutti i trattamenti che avete fatto nel mio salone e quant'altro, il capello ha bisogno di essere coccolato da una professionista come me, quindi io volevo dirvi di non crearvi problemi, contattatemi al telefono o scrivetemi, scrivetemi un'email, così vi posso dare dei consigli come mantenere il biondo come mantenere la permanente che sta andando via, che prodotti dovete usare attualmente dato che ho tanti miei clienti che quando vengono nel mio salone hanno gli abbonamenti e quant'altro ovviamente non posso operare io con le mie mani, però posso darvi dei consigli quindi io ve lo dico con il cuore, anche dei clienti che non mi conoscono dato che stamattina anche due o tre clienti che non mi conoscevano mi hanno voluto contattare mi ha fatto veramente un piacere, conosce gente nuova, poverine, avevano fatto una permanente che si sono trovati i crespi, mi hanno chiesto che prodotti usare, io gli ho dato dei consigli e devo dire che poi mi hanno mandato la fotografia e mi hanno ringraziato, ok? quindi è vero che il mio salone è chiuso, cioè è vero, però io sono disponibile, cioè è come se io fossi con voi a casa e vi aiuto come gestire i vostri capelli, quindi qualunque problema? non esitatevi a chiamarmi, chiamatemi che io vi do tutte le dritte che dovete fare nei vostri capelli, anche per coprire i capelli bianchi, dato che sono una specialista del colore vi faccio usare delle cose che magari per tamporeggiare finché non apro io, siete più inudine va bene? io vi abbraccio tutti, non vedo l'ora di rivedervi a tutti, quando l'ho già detto lo ripeto, quando riapriremo faremo anche gli straordinari perché sarete in tantissimi, è stata una cosa un pochettino a cuo leggero che ci hanno chiuso subito i saloni, quindi non ero neanche io preparata a gestire il cliente, quindi se eravamo abbiamo dovuto anche spostare tutti gli appuntamenti che avevano anticipato gli appuntamenti, anche questo fine mese, tanta gente aveva gli appuntamenti e io ho dovuto, poverine, a mandarli un pochettino più avanti, siamo molto adolorati per questa situazione qua, però purtroppo dobbiamo aspettare, dobbiamo collaborare tutti, dato che noi siamo delle persone, una forza maggiore, gli italiani siamo meravigliosi e si vede come siamo meravigliosi perché ci siamo comportando veramente bene con tutti, siamo tutti chiusi in casa, cioè voglio dire, io non me l'aspettavo una cosa così nelle regole, cioè proprio vero, soprattutto noi di Milano, rispettiamo tutte le regole, cioè siamo tutti tranquilli a casa, so che soffochiamo, però alla fine per il bene di tutti stiamo lavorando tutti insieme e tutti insieme ce la faremo a uscire in questa pandemia che so che è bruttissimo, ma purtroppo è successo certi eventi non ce li andiamo a cercare, ok? Io vi abbraccio in tanti e ripeto, vi aspetto, chiamatemi o scrivetemi, anche numerosi, non ci sono problemi, vi dico tutti i prodotti che dovete usare. Io oggi ho fatto anche un post di un prodotto spettacolare, domani ne farò arti, dopodomani ne farò arti, so sempre con voi, così non ci dimentichiamo, vi abbraccio tutti da Miline Specialisti del Colore.